Noi abbiamo una devozione particolare, cioè una forma di religiosità straordinaria. Io ho vissuto il momento del madonaro povero che non aveva niente. Ero una persona che quasi non esisteva. Una decina di anni fa ho deciso basta sono madonaro c'è questo scambio di energia fra me è la strada, fra me è la gente ed è uno scambio positivo. Ho stopped working for NASA, got on the plane and I went to Rome. In Rome, I started doing what everybody else did, which was copying masterpieces. I stelle mir selber Fragen, versuche Antworten zu finden. Und die Bilder, die haben damit zu tun. Wo bin ich hergekommen? Wo geht's hin? Was mache ich jetzt? Bin ich zufrieden damit? Ist das richtig? In Italia non esiste più una politica culturale. La situazione nel mondo non è facile da ahorita. La cultura oggi è televisione, è business. Il primo anno nel 1973 eravamo cinque madonnari, adesso siamo arrivati a più di 150. Abbiamo influenzato e ormai vengono realizzati in tutto il mondo. Un madonnaro che disegna solo col gesto non dovrebbe essere neanche obbligato a cancellarlo il lavoro, perché è il tempo che lo dovrebbe cancellare.